Esprimermi attraverso i fumetti vuol dire dare parola a qualcuno di me personaggi che staccano molto dalla realtà in cui vivo per dargli un'immagine più fantasiosa. Se fossi io stesso un personaggio di fumetti direi mi piacerebbe adeguarmi alla loro realtà. Improvvisare, avere ispirazione da qualsiasi lato, anche sentendo un brano musicale, vivendo alcune situazioni...